Una serra con dentro tre tonnellate di stupefacente, il sequestro record effettuato la notte scorsa dai carabinieri della compagnia di Ragusa, mai prima in provincia era stata sequestrata tanta droga, arrestato il padrone della serra. Due poliziotti della mobile liberi dal servizio hanno tolto una ragazzina di 15 anni dall'aggressore del fidanzato, il 19 anni, il ragazzo la stava picchiando perché gli aveva appena rivelato di essere incinta, l'aggressore è stato denunciato. A meno di un mese di distanza un altro furgone ha sfondato la vetrina blindata del negozio di abbigliamento Uomo Club a Modica, erano le 4.30 quando i malviventi hanno agito e i carabinieri non scattano ogni pista. Sabato e domenica torna Modica al Tarte, l'ormai consolidata manifestazione di artisti di strada che porta ogni anno nel quartiere alto della città migliaia di visitatori. Oggi la conferenza stampa che ha presentato nel dettaglio l'evento. Benvenuti ad MTG dunque la cronaca in primo piano. Hanno sequestrato la notte scorsa dai carabinieri della compagnia di Ragusa il più ingente quantitativo di droga mai eseguito in provincia di Ragusa. 3.000 chili di stupefacente sono stati rinvenuti in una serra a Santa Croce Camerina in possesso di un vittoriese incensurato. L'uomo è stato arrestato e associato al carcere di Ragusa. Tutti i dettagli sentiamoli da Viviana Sammito. Inferto un duro colpo allo spaccio della cannabis indica. Spazzati dal mercato ben 3.000 chili di marijuana per un giro di affari che ammonta circa 2 milioni di euro. A possedere il più ingente quantitativo di droga sequestrato in provincia di Ragusa in un solo blitz era un insospettabile vittoriese incensurato di 37 anni Salvatore Gurrieri, un agricoltore con un'azienda Santa Croce Camerina. Lo stupefacente era stato occultato in diverse serre tra i pomodori incontrati a Finocchiaro sulla strada provinciale che da Santa Croce Camerina porta a Scoglitti. Il blitz dei militari dell'arma ha permesso di campionare, stirpare e sequestrare la droga così da non permetterne più la coltivazione. Gurrieri aveva allestito un impianto ad hoc esteso circa 20.000 metri quadrati che le consentiva di annaffiare le piante anche la notte senza la sua costante presenza. Proprio tra le piante, nonostante l'elevata temperatura che si sviluppa all'interno delle serre e che permane durante l'arco dell'intera giornata, notte completa, si sono appostati alcune ore prima dell'alba gli uomini dell'arma che hanno atteso l'arrivo del proprietario della piantagione, sorprendendole in fragranza di reato. Durante l'irruzione, i carabinieri hanno trovato circa 2.000 piante di cannabis sindica, alte 2 metri, nascoste tra le piante di melanzane e pomodori. Gurrieri è stato arrestato per produzione di sostanze stupefacenti, aggravato dall'ingente quantitativo, ed è stato anche associato al carcere di Ragusa. La piantagione è stata scopata in un territorio caratterizzato da un'eccezionale fraternità dei terreni, dove anche i coltivatori di questa particolare tipologia di colture trovano le condizioni ideali per far crescere rigogliose le piante di cannabis sindica, ha spiegato il tenente David Millul. Una 19enne ha picchiato con inaudita violenza la fidanzata di 15 anni dopo aver saputo che era incinta in Viale delle Americhe a Ragusa. Lui non voleva più nulla avere a che fare con la ragazza, mentre lei lo implorava di non lasciarla. La minore è stata strappata dall'aggressione da due agenti della squadra mobile che, mentre facevano i jogging, hanno sentito le urla disperate del giovane. L'aggressore è stato denunciato. Anche qui sentiamo i dettagli dal servizio. Ha rivelato al fidanzato di essere rimasta incinta e lui l'ha picchiata violentamente con calci e pugni. Lei ha 15 anni, lui 19. Erano in Viale delle Americhe a Ragusa. Il fatto è accaduto qualche giorno fa. Le urla disperate della minore hanno attirato l'attenzione di due agenti della squadra mobile, liberi dal servizio, mentre facevano jogging. I due poliziotti hanno sorpreso il 19enne che con furia si accaniva sulla fidanzata 15enne. Uno degli agenti, che si è subito qualificato, ha immobilizzato il giovane e l'altro a soccorso la ragazzina. Il 19enne è stato denunciato per percosse aggravate perché ha colpito una donna incinta e poi se ne è tornato a casa a piedi, non avendo la patente. La minorenne, invece, è stata affidata ai genitori che hanno continuato a chiedere aiuto alla polizia, in quanto la minore aveva da sempre dato parecchia preoccupazione e questo era solo uno degli ultimi episodi. Il 19enne ha malmenato più volte la minorenne. I genitori di quest'ultima, da tempo, cercano di farla stare lontano dal fidanzato, ritenuto pericoloso. La ragazza, con l'assistenza della psicologa, si è resa conto del provvidenziale intervento dei due uomini della squadra mobile, confermando di essere stata miracolata, in quanto, vista la furia del fidanzato, poteva andarle molto peggio. E sono stati gli agenti del commissariato di Vittoria a porre fine ai soprusi che subiva una giovane che veniva picchiata dal convivente, nonché padre dei suoi tre figli. Ricostruita la sua storia e raccolti tutti gli elementi, il convivente, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per i reati di maltrattamento in famiglia e lesioni. Per il pregiudicato vittoriese si sono aperte le porte del carcere di Ragusa. Vediamo. E' finito l'incubo di una ventenne vittoriese che quasi a cadenza giornaliera riceveva violenze da parte del convivente. La prima aggressione era avvenuta circa sei anni fa, quando lei aveva scoperto di essere incinta di lui. Quest'ultimo, un noto pregiudicato vittoriese, non aveva accolto positivamente la notizia e l'aveva picchiata. Da lì, in questi sei anni, sono nati tre figli, tutti testimoni delle violenze inaudite cui era costretta a sottoporsi la giovane madre. Tra gli episodi più eclatanti, quello di circa 15 giorni fa. L'intera famiglia si trovava a tavola intenta a consumare il pranzo, quando il fioletto più piccolo, di un anno e mezzo, piangeva e sbatteva il biberon sul seggiolone e il padre, infastidito, chiedeva alla convivente di farlo smettere e lei subito provvedeva. Proprio in quel momento l'uomo le scaiava in faccia a un coltello che le ha procurato una ferita di 5 centimetri con conseguente copiosa perdita di sangue. Questo uno dei tanti episodi che la giovane madre ha nascosto per anni anche ai sanitari del pronto soccorso dove si recava per farsi medicare le ferite riportate. La giovane vittoriese ha nascosto tutto per anni, ma dopo questo episodio, approfittando dell'assenza del convivente, è scappata con i figli e si è rivolta al commissariato di Vittoria. Ricostruita la sua storia e raccolti tutti gli elementi, il 24enne è stato denunciato per i reati di maltrattamento in famiglia e lesioni. Per il pregiudicato vittoriese si sono aperte le porte del carcere di Ragusa. I carabinieri di Ragusa hanno rintracciato la quindicenne marocchina residente a Modica che era scomparsa da casa venerdì scorso. Ieri la mamma al nostro telegiornale aveva lanciato un accorato appello. La giovane girava per le vie di Ragusa questa mattina presto, subito soccorsa dagli uomini dell'arma che l'hanno accompagnata presso l'ospedale civile. La ragazza è stata trovata in buone condizioni di salute. Ai carabinieri ha confermato di essersi allontanata da casa per una propria libera scelta e di non volere farvi ritorno. I carabinieri, vista la volontà della giovane, si sono messi in contatto con la Procura della Repubblica dei minorenni che ha disposto l'affidamento della ragazza ad una casa famiglia della provincia. Ancora cronaca, due giovani tunisini sono stati feriti questa mattina intorno alle 5 in piazza Manin a Vittoria. I carabinieri hanno già individuato ed arrestato il responsabile dell'accoltellamento, un marocchino pregiudicato. Tragedia sfiorata questa mattina intorno alle 5 a Vittoria in piazza Daniele Manin dove due tunisini di 24 e 29 anni sono rimasti gravemente feriti da arma da taglio. I carabinieri dell'eliquota radiomobile intervenuti sul posto hanno trovato i due giovani gravemente feriti da diverse coltellate, alcune delle quali estremamente perforanti, che avevano reciso i tendini della mano. Immediatamente sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 e i giovani sono stati ricoverati d'urgenza al Guzzardi con lesioni gravi alle spalle e alla mano, giudicate guaribili in 45 giorni. Nel frattempo i carabinieri, dopo aver sentito i ragazzi feriti e alcuni testimoni presenti nelle vicinanze della piazza dove è successo il fatto, hanno iniziato una vera e propria caccia al responsabile e dopo averne ricostruito l'identikit, lo hanno individuato ed arrestato. Si tratta di un pregiudicato marocchino di 35 anni. Nel corso della perquisizione personale domiciliare a casa dell'uomo sono stati rinvenuti indumenti sporchi di sangue e un coltello a scatto lungo 17 cm utilizzato per l'accoltellamento. Tutto è stato sottoposto a sequestro e già inviato al RIS di Messina per gli accertamenti tecnico-scientifici del caso. Accompagnato presso la caserma di via Garibaldi per le formalità di rito, il marocchino è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione a disposizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa Monica Monego dinanzi alla quale dovrà rispondere di lesioni, aggravate e detenzione di coltello di genere vietato. Le indagini continuano per capire il movente del gesto. È stato messo a segno un furto, il secondo, nel giro di neanche un mese ai danni di un negozio d'abbigliamento a Modica la scorsa notte intorno alle 4.30. Indagano sempre i carabinieri, tutte le piste sono al vaglio degli investigatori. Noi questa mattina abbiamo parlato anche con il proprietario del negozio. Vediamo. È il secondo furto nel giro di neanche un mese in danno nel negozio d'abbigliamento Uomo Donna Uomo Club di Modica Basse, malviventi intorno alle 4.25 della notte appena trascorsa con una utilitaria. Sono riusciti a salire su questa scivola con l'auto e raggiungere la vetrina per sfondarla, sebbene il proprietario abbia invece fatto installare una fiorera in cemento subito dopo il primo furto. Tre sono riusciti ad entrare a volto scoperto, tra l'altro, all'interno dell'attività commerciale, riuscendo a rubare capi d'abbigliamento. Una persona è stata vista mentre è rimasta in auto. Le prime indicazioni sono state fornite dal proprietario del negozio Fabio Peluso, che non aveva neanche ancora finito di farsi i conti con il primo furto del 6 maggio scorso e si è trovato nella stessa situazione a distanza di poco tempo. Io sono una persona tranquilla, non ho mai avuto problemi con nessuno. Queste le prime parole di Peluso, che è rimasto a parlare con noi in un attimo di pausa tra un sopralluogo dei carabinieri e la sistemazione del locale insieme con i suoi dipendenti. Peluso ha voluto precisare di non aver avuto mai alcun diverbio e ci tiene a chiarirlo. Primo che qualcuno pensi che dietro al furto con spaccata ci sia la richiesta di tangenti. I carabinieri hanno proseguito il sopralluogo e stanno tentando di risalire all'identità dei responsabili che hanno agito con destrezza, riuscendo a trafugare i vestiti e le scarpe all'ingresso. Al setaccio, tutti filmati dalle telecamere di videosorveglianza, tanti ancora i dubbi da chiarire chi sono e perché. I carabinieri stanno lavorando per dare una risposta non solo a Fabio Peluso, ma a tutta la città. A giudizio, un ex dipendente dell'Inps di Ragusa accusato di truffa ai danni dell'Istituto di occultamento di prove durante l'esercizio delle sue mansioni di soppressione e distruzione di atti, tutti reati contestati con l'aggravante e di falsità in scrittura privata nel momento in cui aprì un conto corrente bancario intestato ad un prestanome sul quale fece transitare quasi 100 mila euro. Il fatto si verificò nel 2011, venne scoperto dalla direzione regionale dell'Inps che licenziò in tronco il dipendente e che ora in giudizio si è costituita parte civile. L'uomo dovrà comparire nell'udienza monocratica del 4 aprile 2016. Resistenza e violenza pubblico ufficiale, di questo devono rispondere tre giovani arrestati dai carabinieri a Pozzallo. Si tratta dei sorvegliati speciali Giovanni Biazzo di 27 anni, Daniela Biazzo 29, generosa Ancona di 33, già nota alla forza dell'ordine ad insospettire i militari, i movimenti dei tre che durante le operazioni di perquisizione hanno tentato di fuggire spintonando e aggredendo compugni i militari. I carabinieri hanno trovato circa 200 euro in banconoti di piccolo taglio, un involucro contenente quasi mezzo grammo di hashish. Dopo le formalità di rito i tre sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. E cambiamo argomento, parliamo di attività degli enti locali. Da ieri sera sono formalmente scomparsi i monogruppi nel Consiglio Comunale di Ragusa. L'applicazione del nuovo statuto ha portato alla cancellazione dei gruppi formati da un solo consigliere e di conseguenza ha profondamente mutato la geografia politica a Palazzo dell'Aquila. Vediamo. Ancora una coda polemica alle proposte di modifica del regolamento del Consiglio Comunale di Ragusa discusse ieri sera. Il dibattito è stato rimandato alla prossima settimana. Girano in aula circa 300 emendamenti, a dimostrazione di quanto ancora si sia lontani da una sintesi tra maggioranza, Movimento 5 Stelle e opposizioni. Un passo avanti però è stato fatto. La rideterminazione dei gruppi consigliari a norma del nuovo statuto in vigore da fine maggio. I monogruppi sono scomparsi, ovvero niente più gruppi consigliari a Palazzo dell'Aquila formati da un solo consigliere. Il Movimento 5 Stelle, la lista Partecipiamo e il Partito Democratico avevano già almeno due consiglieri, quindi per loro tutto resta invariato. La geografia politica dell'Aula cambia molto invece per le liste meno rappresentate e da 11 gruppi consigliari si è passati a 7. Diverse sigle sono scomparse. È ritornata Forza Italia. Maurizio Tumino e il capogruppo Giuseppe Lodestro e Giorgio Mirabella lo affiancano. Sono gli altri due consiglieri che tornano sotto le insegne del partito di Berlusconi. Ad affiancare Sonia Migliore, capogruppo Udc, arriva formalmente Manuela Nicita, eletta con i 5 Stelle, ma già da tempo vicina alla Migliore dopo aver aderito al Laboratorio Politico 2.0. Nel gruppo misto, creato a suo tempo da Elisa Marino, che ne rimane capogruppo, fa il suo ingresso Carmelo Ialacqua, eletto nel Movimento Città. Infine, un nuovo gruppo preseduto da Gianluca Morando, di Movimento Civico Ibleo, e Angelo Laporta, di Territorio. E ad aprire i lavori del Consiglio Comunale di Ragusa, ieri sera è stato il caso Irminio SRL, gremiti gli spalti destinati al pubblico, preoccupati i lavoratori per il futuro. I consiglieri Lodestro e Tumino hanno presentato un ordine del giorno per chiedere all'amministrazione di fornire le motivazioni che hanno portato a sospendere la concessione edilizia per una piazzola provvisoria incontrada a Buglia Sottana. Sono 300 i lavoratori dell'indotto a rischio senza considerare i mancati proventi delle royalties che ne deriverebbero qualora non si dovesse rilasciare la concessione. Queste le parole della consigliere Maurizio Tumino. Intanto il Tar del Lazio ha dichiarato infondato il ricorso dei comuni limitrofi al canale di Sicilia contro le trivellazioni a mare e in terra, aprendo così di fatto il territorio alle perforazioni petrolifere, così come voluto dal presidente della regione Crocetta. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Ragusa Federico Piccito. Purtroppo i comuni sono costretti a subire passivamente le indicazioni dell'articolo 38 e le concessioni rilasciate dalla regione. Ha dichiarato in questo modo veniamo privati della possibilità di perseguire un modello di sviluppo diverso da quello che Renzi e Crocetta si ostinano a favorire. E adesso parliamo di Go International Day, un appuntamento organizzato oggi dalla Confindustria di Ragusa e dalla banca Unicredit per spiegare agli imprenditori della provincia di Ragusa come avviare i processi di internazionalizzazione e investire sull'export. Le imprese ragusane devono scommettere sull'internazionalizzazione, parola che sentiamo spesso, difficile anche da pronunciare, ma probabilmente una delle migliori ed ultime chance per uscire dalla crisi. Bisogna puntare sull'export nei mercati globali in espansione. La domanda interna è in calo da almeno 5 anni. La Confindustria di Ragusa per questo oggi ha promosso il Go International Day, evento organizzato da Unicredit che mette a disposizione delle aziende le competenze e i suggerimenti per affrontare la sfida con l'estero nel migliore dei modi. Nel territorio ragusano ci sono delle aziende di qualità con alta anche tecnologia per cui possono in questo momento di crisi della domanda interna avere delle forti opportunità sul mercato estero. La saturazione dei mercati della domanda interna e il sistema di tassazione italiano hanno fatto sì che laddove non ci sia internazionalizzazione le imprese finiranno con restare schiacciate. Quindi anche quelle che tradizionalmente sono state più ostili o più reticenti al cambiamento, quindi all'apertura verso l'estero, si stanno via via adeguando. Il tessuto imprenditoriale Ibleo storicamente e con rarissime eccezioni si è fatto forza dell'inventiva, dell'originalità, della dedizione al lavoro di piccoli e medi imprenditori. Mancano i grandi gruppi industriali. Può sembrare più difficile internazionalizzarsi con queste dimensioni. In realtà non è così. Quello che abbiamo visto è che molta gente viene, molte aziende vengono, guardano e pensano che è possibile il fai da te, perché probabilmente qualche azienda ci è riuscita, è riuscita ad andare in un momento giusto, nel posto giusto, però questa è solamente fortuna. Per la maggior parte delle aziende bisogna creare un sistema organizzativo, che purtroppo non abbiamo. Le faccio un esempio. Noi vorremmo portare i biscotti nostri in America, però noi siamo abituati ad avere il pacchetto da mezzo chilo. In America accettano il pacchetto da due o tre biscotti, quindi dobbiamo essere organizzati ad avere un modo di presentazione che sia diverso rispetto a quello che abbiamo in Italia. Il corso di laurea in Scienze Sociali di Modica non può continuare ad essere sostenuto dal Consorso Universitario, che significa, astante l'assenza della provincia, solo il Comune di Ragusa. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Comunale del Capoluogo Ibleo, Giovanni Iacono, secondo cui si è già perso in questi anni troppo tempo e le cambiali sono abbondantemente scadute. Iacono lancia un appello al Sindaco di Modica Abate affinché intervenga. Aumenta la frequenza dei voli all'Italia Comiso Linate. Si tratta di 1.500 posti in più, con un quarto collegamento settimanale il sabato dall'11 luglio al 15 settembre in occasione dell'Expo. Adesso ci fermiamo, c'è la pausa pubblicitaria. A tra poco. Il stato presentato oggi è il cartellone degli eventi di Modica Altarte, l'evento organizzato dal Comune in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale Francavilla, con il Borgo degli Artisti, che prende il via il prossimo 6 giugno. La Kermesse si concluderà domenica 7. Vediamo. Si apre il sipario su Modica Altarte per una due giorni ricca di eventi, cibo e artisti di strada, effetti speciali per una città a misura di turista e cittadino. Enjoy Indestruite, il divertimento nelle suggestive vie di Modica Altarte è assicurato il 6 e il 7 giugno. Una Kermesse che abbraccia tradizione e innovazione con uno sguardo rivolto verso la mobilità sostenibile, il gardening e laboratorio con le impronte digitali e poi, manco a dirlo, odori e sapori della nostra terra accompagneranno visitatori in una dimensione tra la fantasia e la realtà. Un evento per tutti. Tante le chicche, tra cui anche il tablò Vivant, una messa in scena dei quadri di Caravaggio. Abbiamo introdotto alcuni temi nuovi, però uno di questi è quello del cicloturismo. Abbiamo pensato che Modica Altarte è un quartiere che ha delle pendenze abbastanza difficili per i turisti, li vediamo a volte arrivare su con certa difficoltà e quindi per noi potrebbe essere una nuova possibilità, una prospettiva quella di utilizzare le biciclette. Contemporaneamente abbiamo cercato di coinvolgere gli abitanti del quartiere in una operazione legata al gardening e al decoro urbano su un oggetto specifico che è proprio il serbatoio di Santa Teresa. Santa Teresa Reserve War Gardening si chiama questa operazione e prevede la partecipazione di impronte vegetali che è un gruppo di paesaggisti di Caltagirone. Abbiamo dato più spazio alla musica dal vivo con due concerti importanti, uno dei malattie coscienza e uno dei matrimia che si svolgeranno a conclusione delle due serate e abbiamo dato anche molto più spazio alle attività per i bambini con Altarte Kids che sarà dedicato proprio ai bambini dai 3 ai 12 anni. La manifestazione è stata organizzata dal comune in sinergia con il centro commerciale naturale Francavilla e il Borgo degli Artisti. Questo grande evento perché noi l'abbiamo inserito a Modica Altarte fra i 5 grandi eventi del comune di Modica e vengono messi a disposizione dei turisti e dei cittadini nei 12 mesi e quindi è un momento importante per la città. Poter far visitare il serbatoio comunale sarà un'occasione unica per quel quartiere. Un boss navetta partirà dall'ex forobuario, dal piazzale Falcone Borsellino. L'inaugurazione è prevista sabato alle 18 nella zona di Santa Teresa. Sempre sabato gli organizzatori hanno disposto l'installazione di un maxischermo per la finale di Champions League a San Giovanni. Il divertimento proseguirà fino a domenica. Con una festicciola in piscina e la consegna degli attestati si è concluso oggi il progetto nuoto della scuola dell'infanzia Rodari di Ragusa. Vediamo. Tutte queste cose non sono semplici. Si è concluso oggi il progetto nuoto dei bambini della scuola dell'infanzia Rodari, un progetto fortemente sostenuto dalla dirigenza della scuola che ha trovato sponda nell'amministrazione e si è sviluppato per alcuni mesi presso la piscina comunale. I bambini, suddivisi in diversi turni, ogni giovedì hanno partecipato a lezioni di nuoto che si sono svolte sia nella vasca piccola di ambientazione che in quella grande. Oggi la consegna degli attestati è la soddisfazione di tutti, bambini, genitori, insegnanti. Già l'istituto negli anni passati l'abbiamo sempre fatto e quest'anno l'abbiamo continuato per dare l'opportunità di fare una vera educazione motoria ai bambini che non è ferma soltanto in palestra ma che anche attraverso il nuoto è completativa, possiamo dire. Ma è anche di sicurezza perché i bambini prendono confidenza, tra virgolette, con l'acqua e così anche quando fra poco arriva l'estate, anche in spiaggia, si può stare tutti più tranquilli. Un progetto che vede più soggetti interessati, che hanno ognuno messo le proprie competenze con al centro i ragazzi, la salute e lo sport, quindi un bel momento davvero anche per questo. Mi piace molto lo stile libero, lo facevo anche di pomeriggio però ora non lo faccio più perché faccio teatro. Come ti chiami? Carlo. Hai imparato a nuotare? Sì. E questa mattina l'auditorium del secondo circolo Giuseppe Caruano di Vittoria è stato intitolato ad Agata Azzolina, la giovane di Niscemi, morta il 23 marzo del 1997, dopo che il 16 ottobre dell'anno precedente le erano stati uccisi dalla mafia il marito ed il figlio. All'iniziativa sono intervenuti tra gli altri il sindaco di Niscemi, Francesco Larosa, Eliana Giudice, presidente dell'anti-racket di Vittoria e Piero Gurrieri, vicepresidente nazionale di avviso pubblico. Non ci sono aggiornamenti, il nostro telegiornale per il momento si ferma qui. Grazie dell'attenzione prestata e buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie a tutti.